Tanti auguri a me, tanti auguri a me, tanti auguri Cristiano per i tuoi sedici anni, tanti auguri a me. Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con il video più atteso dell'anno per quanto mi riguarda, in quanto andremo finalmente a scartare tutti gli autoregali che quest'anno mi sono voluto fare. Faccio un piccolo PS, vi siete mai resi conto che nessuno in tutto il mondo è intonato quando canta tanti auguri? Perché io ci ho sempre fatto caso, in tutti i compleanni a cui ho partecipato, in tutti i compleanni che ho visto su internet, non c'è una persona che sappia cantare tanti auguri o happy body o quello che è, intonato. È una cosa assurda eppure dovrebbe essere la canzone più facile del mondo. In realtà no, raghi. Anyway, finalmente oggi siamo pronti. Vi ho scartavetrato cazzo per mesi in quanto compravo autoregali su autoregali, ma oggi è arrivato il momento. Abbiamo da scartare non uno, non due, non tre, non quattro, ma cinque regalini. Quest'anno sono stati un po' meno rispetto agli anni passati, però sono stati più ponderati, sono stati più pensati e sì, sono molto molto orgoglioso. Bando alle ciance, ciancio alle bande. Innanzitutto voi sapete che oggi è il mio compleanno, quindi io mi aspetto qua sotto tramite commento una miriade di auguri. E poi lasciate like a questo video come regalo di compleanno che vi richiedo. E iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Anyway, vado ad iniziare subitissimo con il primo pacco di Hermès. Inizio con questo perché lo abbiamo già aperto in realtà una settimana fa su Per Giù durante un vlog. Perché? È vero che questo sarebbe il quinto autoregalo del compleanno, ma è più un regalo che mi sono voluto fare per via del bel lavoro che sto facendo in questo 2023. Ve ne ho già parlato nel vlog a lui dedicato, però siccome non tutti lo hanno visto e siccome fa parte poi anche degli autoregali, ve lo faccio vedere velocissimamente. E quindi eccoci qua con la nostra scatola arancione, la nostra primissima scatola arancione. Io mi sono comprato gli sandali, le ciabatte. Alla fine loro li chiamano sandali, i smear, ma non sono altro che un paio di ciabatte. Ragazzi. E ho preso più precisamente questo modello, questa colorazione, che è gold, marroncina gold, con le rifiniture, le cusciture qua, tutto nelle H. Ho preso un 42,5. Vi avevo già detto e vi avevo già fatto notare che la mia preoccupazione, perché sono in cuoio, sono in pelle, super morbide, super comode. L'unica cosa è che io ho espresso questo dubbio riguardante questi sandali. Se la soletta di sotto, come ben potete vedere, è tipo scamosciatina, sarà anche molto delicata. Ora, se io me le metto per andare in giro per Milano, o per andare sull'asfalto, o anche per andare, non lo so, in un parco, e si rovinano in tre e sei onde. Ma come mai avete fatto delle sole così? E in molti mi avete anche detto, no, guarda, chissà, che queste non sono per andare a giro, sono per stare in casa. Ma no, è impossibile. Come fai a fare un paio di ciabatte, un paio di sandali, per stare in casa in pelle, in cuoio, in questo modo? Fai delle pattine in pelo. Quindi, solo per la città, solo per magari andare al mare, aperitivi al mare così, l'unica cosa è che si rovineranno sicuramente. Però, lo sapremo solo vivendo durante questa estate e quando le indosserò. Mi piacciono moltissimo ed è stato, diciamo, il mio primo acquisto di Hermes che vi ho fatto vedere, ma non è stato il primissimo perché voi che mi seguite giornalmente, ragazzi, ragazzi, sapete che il primissimo mio acquisto di sempre e quindi anche di quest'anno è anche stato il primissimo autoregalo che mi sono comprato è stato il 25 aprile che ero a Firenze. Ho fatto la fila, tanto pioveva. Se avete visto il vlog in questione saprete già tutto. Sono entrato in negozio perché avevo visto su internet che la cosa che volevo era disponibile lì e siccome a Milano non c'era in quel momento ho detto non voglio rischiare ormai sono qua vado a comprarlo subito così non ho l'ansia di andare a controllare ogni giorno se a Milano sarà disponibile. Anyway, è arrivato finalmente il momento! Sì, finalmente apriamo questo, ben detto, pacchetto che è un mese e mezzo che sta lì in camera mia chiuso a prendere polvere infatti sarà un po' pieno di polvere. Andiamolo ad aprire non mi sembra vero e togliamo il fiocchettino oh, ok e andiamo a vedere cosa c'è all'interno ah, ok è vero, me l'aveva detto anche lei che mi ci aveva messo questo librino Le Monde Hermesse in cui a regola ci dovrebbe essere un po' la storia un po' il tutto molto carino, carino me lo leggerò e poi vi farò sapere bello, capitolo 1 alla ricerca del cavallo surfista wow notate qui il numero di cavalli che avete incontrato nel corso della vostra avventura ma che vuol dire? ok, grazie per il regalo ma il vero regalo è qua dentro quindi tutto questo sacchetto per questo scatolino e sapete già ragazzi lo sapete andiamo a levare il fiocco e sono molto orgoglioso sono molto contento di aver scelto questo regalo ora spero che non mi si rompa tarara eccoci qua c'è la sua mini dust bag prima che cos'è questo? ah, ok c'è anche un fogliettino con le istruzioni ah, ok qua dentro ci sono le istruzioni e ho comprato il braccialetto ed è questo qua ragazzi bello, bello, bello l'ho preso nero lucido con hardware argento perché gli ho provati un po' e poi di questa grandezza perché c'era anche più grande ne ho provati un po' e il mio pref era questo e si dovrebbe aprire così che si tira la H in su poi si apre e io l'ho pensato per far compagnia al mio cartier perché questo qua ok va messo così poi si mette così e poi scusate che ora non mi vedete fa il click vedete? questo è il braccialino mi piace mi piace molto chic poi va un po' in su e in giù ma e questo è il modello insomma era così dove deve stare così perché sennò quello più piccolo stringeva troppo e mi piace tantissimo super 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 mi ha detto la commessa che questo ok è delicato ma comunque lo posso tenere sempre giornalmente a parte se devo andare al mare se devo fare il bagno in spiaggia o se devo andare alle terme ma comunque molto carino bello 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 lo volevo da tantissimo e sì ero indeciso tra questo nero lucido o quello arancione lucido oppure quello nero opaco quello nero opaco non c'era quello arancione lucido boh mi sembrava un po' troppo si vede vuoi far vedere che è di ermess ok e quindi siccome il nero sta bene su tutto io sono quasi sempre vestito di nero anche se non fa parte della mia palette di colori ho scelto questo mi piace bello 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 e ovviamente penso di non indossarlo sempre tutti i giorni lo vorrei indossare per delle particolarità no tipo non lo so agli eventi tipo non lo so alle prime dei film tipo non lo so a varie cene compleanni però insomma mi piace mi piace tantissimo e poi c'ha anche ovviamente tutta la sua plastichina no per non essere rovinato però al momento non lo togliamo anyway questo è il mio secondo autoregalo di quest'anno firmato Hermes mi piace molto e mi piace molto anche questa mia versione che rispetto agli anni passati sui gioielli ero un po' più boh ma perché comprarsi i gioielli in realtà ho iniziato a ampliare le mie vedute mi piace mi piace mi piace mi piace il tutto mi piace anche la dust bag bello molto chic molto fine adoro so che è una cosa che hanno qualsiasi persona in tutto il mondo la prima cosa di solito che uno si compra di Hermes è un braccialetto del genere e so che è magari anche una scelta diciamo super basic però lo volevo da tantissimo lo vedevo anche a tantissime mie amiche o mie amici e quindi finalmente me lo sono potuto comprare con la scusa che era il mio compleanno ora ragazzi ci siamo ne manca tre manca Apple Louis Vuitton e Prada e io direi di andare innanzitutto con la Apple questo è diciamo il penultimo acquisto è stato l'ultimo autoregalo tra i quattro e poi dopo sono arrivati i sandali e non è il colore che volevo ok però guardandolo poi dal vivo mi sono innamorato I fell in love with this item e molti di voi lo diranno non è un computer nuovo non è un altro iPhone non è un Apple Watch ma ho comprato queste le iPod Max lo so ora tutti voi mi odierete che direte hai sprecato i soldi sono inutili lo stesso Diego mi ha detto no non le userai molto perché fanno caldo sono molto ingombranti però io le amo sono bellissime più le guardavo e più mi innamoravo sono verdi le ho scelte alla fine verdoline così perché in realtà io le volevo bianche ok quel bianco grigio classico Apple ma a parte che non era disponibile ma mi hanno fatto vedere queste oltre agli altri vari colori e io ho detto aspetta un attimo fammele vedere perché mi piace moltissimo questo verde e mi sono innamorata e adesso le andremo ad aprire non faremo lo spacchettamento ASMR perché come ben potete vedere l'ho già fatto ma semplicemente perché ho registrato un reel uno short un tiktok che andranno poi nella sezione ASMR e andiamole ad aprire per vedere come sono dal vivo wow raga che belle che belle le amo guardate il colore allora possiamo togliere però questo ok perché non lo avevo tolto aspetta ok questo così e già la custodia l'amo ok guardate che verde militarino bellino e poi se noi lo andiamo ad aprire tiriamole fuori ok qui c'è il cartone belle cioè guardate il colore come è stupendo questo colore lo amo e la cosa impressionante è che io adesso non sento niente cioè mi sta bellissimo questo questo verde lo amo è bellissimo no la cosa dopo e è stupendo ora non so ma io l'ho messo giusto I don't know ci sarà un left or right da qualche parte o vanno bene qualsiasi cosa vabbè anyway ci penseremo poi dopo le queste io le ho pensate le ho volute bello mamma come è bello il packaging lo amo super minimal super bello e poi mi piace il colore e soprattutto il sopra non è bianco sembra bianco però è un bianco tendente al verdolino però lo amo questo stavo dicendo io l'ho pensato per i miei viaggi siccome prendo molto spesso il treno e soprattutto quando io torno in Toscana che devo farmi tre ore di treno tra la freccia rossa e aspetta in stazione e varie cose e con le mie airpods normali alla fine siccome ci ascolto un monte di musica ci ascolto i messaggi vocali ci registro i video e tutto quanto arrivavo in fondo al viaggio che erano scariche ok e quindi ho detto ma sai cosa per i viaggi lunghi mi piacerebbe un paio di airpods max e ho preso queste qua e quindi vedremo ci faranno compagnia durante i nostri viaggiuini spero proprio spero di sì spero che non siano ingombrantini fammi vedere le posso mettere anche così quando le tengo belle adoro super street style adoro mi piacciono tanto 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 sono innamoré di queste e le amo bellissime ok questo è il mio terzo auto raga ah ma fammi vedere una osa perché qua cosa c'è ah eccolo infatti il cavo per ricaricarle ok che pensavo che non ci fosse e poi qua vabbè il classico ma non ci sono gli adesivi no è la prima volta che non ci sono gli adesivi dentro un qualcosa della apple vabbè l'importante è che ci sia al capo belle mi piacciono tantissimo sono super super contento so che voi ne sarete un po' meno contenti di questa cosa perché in molti quando io avevo fatto il vlog che avevo sono che ero andato alla apple per prendere l'ultimo autoregalo e molti mi avete detto spero che non siano le hypermax però ahimè è così adesso ne manca due c'è louis with on even and nothing more i made you look ma non lo apriamo perché siccome questo è l'autoregalo più costozo che io mi sia mai fatto in vita mia lo voglio tenere alla fine perché è il momento di aprire Prada quindi sposta il tutto Prada Prada è questo è un autoregalo dell'ultimo minuto nel senso che non era pensato però girando per il sito tra le varie novità avevo visto questa cosa è un capo di abbigliamento sapete allora sì perché tanto ora arriveranno le critiche è vero che io ho detto che ultimamente soprattutto in questo 2023 non voglio spendere molti soldi per capi di abbigliamento brandizzati no perché costano tantissimo e poi comunque metti caso che poi non li non li indossi li puoi rivendere a un prezzo adeguato perché si svalutano molto e anche perché io quest'anno che sto lavorando con Disney e con varie altre aziende tutti richiedono ovviamente l'abbigliamento senza loghi e quindi mi sono detto io in questi anni ne ho comprate così tante di magliette di pantaloni di cappelli di cose varie che sono firmate adesso chi se ne frega mi voglio buttare più non lo so sui gioielli come avete visto sulle borse come vedrete o come avete visto durante quest'anno o sulle scarpe e però non potevo non prendere questo perché mi piaceva tantissimo io ho innamorato e bello anche il packaging mi piace tantissimo andiamo oddio me lo stavo pettinare addosso ad aprire subito questa scatola questo non sono andato a comprarlo in negozio ma l'ho preso online quindi è la prima volta che io lo vedo dal vivo insieme a voi ovviamente la carta di Pradi eccolo qua ho preso questa maglietta super classica super normale che ah guarda altra carta che bella la carta brandizzata ed è una semplicissima maglietta nera ok una t-shirt nera con il logo qua centrale e la amo e io ho detto bella minimalism anche questa super basic però mi sono detto boh per le serrate d'estate ma perché c'è tutto sto filo tutto sto brandello cosa è successo scusate ma dove è entrata sta maglia prima di arrivare a me oh avete visto eh che l'ho aperta in diretta con voi è piena di tutti questi filini di tutte queste robe e poi soprattutto qua è sporca ragazzi vedete prada cosa è successo cosa ci ha fatto con questa maglia non è che te la sei messa qualcuno qualcuno l'ha indossata ragazzi ve lo dico io perché è impossibile che io compro una maglia la vado a ritirare in negozio perché ho fatto ritira a negozio invece che ritira a casa e me la date sporca in questo modo ma vabbè voglio vedere che è sto sì c'è qualcosa è qualcosa di strano I don't know vabbè andrò via si laverà comunque il tessuto è cotone ovviamente è molto è tipo quel cotone delle maglie di Gucci molto spesso e mi piace la indosseremo se si pulirà durante le notti d'estate un po' così molto carino mi piace ok peccato che non mi è piaciuto come me l'hanno fatta arrivare boh che secondo me lo sapete cosa potrebbe essere stato secondo me è successo questo che qualcuno l'ha comprata l'ha provata l'ha indossata l'ha sporcata e poi l'ha fatto il reso te lo dico io perché è impossibile era chiusa come ha fatto a prendere tutti questi penerini e soprattutto lo sporco non so vabbè Prada sei un po' una mezza delusione in questo caso però la maglia è bella non c'è niente da dire e poi la proveremo durante uno di questi vlog perché tanto ah perché tanto stavo dicendo madonna mi crolla tutto scusate perché tanto la voglio indossare prestissimo però se Prada è stata una mezza delusion per quanto riguarda il pacco come è arrivato però quella maglia io adoro è la mia prefe arriviamo finalmente a Louis Vuitton la storia di questa borsa perché è una borsa ragazzi è molto lunga io è da Natale 2022 che sono alla ricerca della borsa perfetta per autoregalarmi per il compleanno ok e avevo scelte di varie categorie e soprattutto di vari brand sono arrivato poi verso maggio con l'aumento ancora dei brand perché voi sapete che ogni sei mesi tipo aumentano e quindi a gennaio erano riaumentati tutti sono arrivato verso maggio con alcune scelte ero indeciso fra tipo otto modelli sette modelli su per giù quindi sapete benissimo che io ho fatto una live sul sito Viola e ve le ho mostrate tutte oltre a mostrarvele abbiamo fatto anche dei vari sondaggi e poi sondaggio dopo sondaggio dopo sondaggio dopo sondaggio la vincitrice è stata questa qua quindi alla fine è stato un autoregalo che avete scelto voi ok però fortuna che ha vinto la mia preferita e adesso andremo a aprirla tanto c'è anche un po' di polvere perché questo è un pacco che è rimasto anche questo lì per un mese fatemelo ok quanto è bello l'arancione ragazzi oltre che per Hermès anche per Louis Vuitton mi piace troppo il contrasto blu in questo modo arancione ma finalmente da quando l'ho comprata possiamo aprirla andiamo a togliere il suo fiocchettino che è così ma qui qui ci avevo fatto scrivere qualcosa ah no non ci avevo fatto scrivere nulla però ci sarà scritto happy birthday cristiano te lo meriti ti amo ok quindi fiocco tolto andiamo andiamo ad aprire finalmente la mia nuova piccolina sei qua prendiamo la dustbag che è qui e tra le altre cose tre due uno ho preso finalmente la pochette metis questa qua ragazzi com'è bella e l'ho presa in monogram total monogram e adesso andremo a esplorare il tutto si apre così all'interno c'è la sua tracollina e ragazzi la tracolla è fatta così è tutta in monogram in canvas e dove ci sono i buchetti vedete c'è l'oro no sono rinforzati con vabbè questa placatura d'oro e è quella cosa che è quel dettaglio in più che mi ha fatto scegliere questa questo modello rispetto magari a quella che era bicolor o rispetto all'altra con cui ero più indeciso che era quella in pelle allora ero indeciso tra questa in monogram in canvas e pelle di bacchetta e quella tutta in pelle che era praticamente nera e aveva sempre la pelle anche qua però era scura la volevo anche in pelle semplicemente perché come ben sappiamo noi amanti di Louis Vuitton la bacchetta che è praticamente questo tipo di pelle qua è chiaro adesso ma con l'andare del tempo con l'andare dell'utilizzo si scurisce sempre più e mi piace tantissimo il fatto che cambi colore ok l'unica cosa è che bisogna essere fortunati perché non sempre cambia colore uniformemente ma molto spesso si iniziano a intravedere delle macchie le macchie di qua macchie di qua perché piano piano ovviamente cambiando colore dipende come lo indossi cosa tocchi di più e tutto quanto con il sole e viene un po' di macchie e quello era l'unica cosa che mi faceva un attimo dire aspetta sono indeciso su quale comprare però il modello questo è il mio preferito mi avete detto anche che magari per farlo trattenere di più il colore chiaro di metterci magari anche un fulare e tutto quanto però vabbè poi vediamo insomma andiamo a metterci la nostra catenina che è così e poi vi faccio vedere la borsa nella sua totalità allora ok la borsa è così qua vi metto una foto di quando l'ho provata in negozio e me ne sono innamorato fatto stacche questa è la pochette metis quando è vuota ok vedete perché è fatta tipo è divisa in tre blocchi così uno qua uno qua e uno qua quando è vuota è l'apertura è difficile ok devi proprio pigiare per farla chiudere ma questa chiusura e apertura mi piace tantissimo per aprirla voi basta fare così e si apre ok è tutta in canvas a parte dentro che è di questo materialino così e poi ha le varie rifiniture in pelle di vacchetta la vacchetta è sia qua all'interno con la targhetta sia il manico sia qua così e sia anche qua dove c'è oh scusate che così oh dove c'è l'attaccatura per la come si chiama per la tracolla all'interno è molto molto spaziosa perché ragazzi c'è una prima tasca che è scusate che è questa qua che è quella dove di solito ci mettiamo non lo so il telefono gli spicci le carte le cose un po' più importanti che voglio che stiano divise dall'altra dall'altra delle cose poi c'è la tasca nel mezzo che è quella più spaziosa ed è molto spaziosa magari poi faremo in un reel in uno short in un tiktok faremo un what's in my bag cosa c'entra nella mia nuova matis e poi ultima è questa qua che anche questa è molto spaziosa ora è molto 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 spaziosa e molto grande anche come borsa l'unica cosa è che a me piace non la voglio riempire troppo perché quando si riempie è fatta apposta per riempirla diventa anche molto più grande però a me piace così fine quindi ci metteremo giusto il giusto indispensabile e poi sul retro c'è inoltre questa quest'altra cerniera che la andiamo ad aprire così e qua ci potete mettere quello che volete non lo so io di solito qua non ci metto niente o la foto di mio nonno di solito ci metto e poi niente questa è la borsa nel senso la puoi tenere anche così la puoi mettere a tracolla io la amo amo ed è assolutissimamente la borsa più costosa che io abbia mai comprato perché questa al momento costa più di 2000 euro costa 2050 euro però se dovessi trattarla bene se dovessi magari anche usarla poco magari nel tempo io mi accorgo che per paura di rovinarla o magari boh insomma se in questo periodo di tempo vedo che comunque non la uso non la sfrutto come vorrei so per certo che questa è una borsa che anche se andava di moda soprattutto tre anni fa su per giù è un must have piace tantissimo ai ricercatori ai collezionatori i collezionisti di borse e soprattutto il suo prezzo aumenta a dismisura ogni volta che c'è un aumento di prezzi di Louis Vuitton perché nemmeno un anno fa questa borsa costava 1400 euro ragazzi e adesso io l'ho pagata a 2050 quindi trattandola bene e tutto quanto magari tra qualche anno costerà un po' di più e ci posso anche riprendere i soldini e comprarmene un'altra la amo bellissima e soprattutto ho voluto anche questo modello che meno male ha vinto nei vari sondaggi perché io fatte così non ce ne ho punte io vi ho sempre abituato su per giù alle varie tracolle che sono tutte uguali no? quelle pensate per un uomo no? e questa mi è sembrato bello e diverso è tipo torno a scuola perché sembra tipo una cartellina piccolissima però la amo bella quanto mi piace ora ci devo stare attento ragazzi ho controllato prima di comprarla che fosse tutto a posto tipo le rifiniture e l'hardware che fosse messo bene e non storto che non ci fosse neanche una macchia da qualche parte perché come ben sapete ultimamente non si sa mai no? i vari brand aumentano i prezzi però cercano a volte di essere un po' risicati con le rifiniture o le varie cose quindi è perfetta era anche l'ultima a disposizione e io la amo questa è la nuova mia amorina bisogna dargli un nome ragazzi che nome gli diamo? non lo so pensateci e scrivetemelo qua sotto tramite commento quindi ragazzi e ragazzi siamo arrivati alla fine di questo unboxing auto regali di compleanno fatemi sapere voi qua sotto tramite commento quale di questi regali vi è piaciuto di più quali avete magari e se mi date anche un consiglio su come mantenerli nel migliore dei modi e soprattutto mi aspetto da parte vostra tantissimi auguri qua sotto tramite commento mettetevi piace a questo video come regalo che vi ho richiesto per quest'anno iscrivete al mio canale se ancora non l'avete fatto per oggi è tutto ci vediamo domani vado a festeggiare